Maran, bravo, gli hai insegnato bene, bravo Maran, bravo Maran, gli hai detto bene, cosa gli hai insegnato questo, cosa gli hai insegnato, gli hai detto entra a scalza, cosa gli hai detto, entra a scalza al campioni. Il Toro sostituisce il numero 15, Marco Benassi. Bravo, Marco. So direi, you're safe and free, aqua. Bravo, Marco. Bravo, Marco. Bravo, Marco. Bravo, Marco. Bravo, Marco. Bravo. Bravo.